Buongiorno e ben ritrovato a Marcello, benvenuto in questo video. Oggi vorrei toccare un argomento relativo alle fasi di mercato, perché è così importante mappare gli orari di lavoro e gli orari in cui il mercato ha qualcosa da offrire. Ora, è inevitabile che il mercato ha qualcosa da offrire quando è partecipato, soprattutto dalla prospettiva di trading con i volumi e studio dell'order flow. Questo è fondamentale, è l'ABC dell'operatività. Però il mercato durante la sua evoluzione, quindi dall'orario di apertura all'orario di chiusura, indipendentemente dallo strumento che si va a trattare, segue delle fasi ben precise e ben strutturate. Io personalmente mi trovo più a mio agio a lavorare in determinate fasi di mercato piuttosto che in altre. Attenzione, questo video non vuole essere una critica all'operatività degli altri, semplicemente voglio spiegarti e motivarti il perché scelgo di lavorare in determinate fasce orarie e soprattutto il motivo che mi ha portato a definire e a isolare queste fasce orarie come scelta operativa. Prima di tutto, se fai qualche ragionamento e ci pensi un attimo, le fasi di mercato sono naturalmente dipendenti dalla quantità di partecipanti al mercato. Partecipanti. Questo va a motivare essenzialmente due cose. Uno, più il mercato è liquido e partecipato, più il mercato tende a muoversi. Le forze in gioco sono tante e nel momento in cui si muove prende direzione. Attento a questo mio termine, direzione. Meno partecipanti ci sono, meno liquidità c'è sul mercato e più è facile osservare e identificare un mercato non direzionale o comunque non controllato. Attenzione, apro una parentesi, questo vale nei momenti in cui il mercato non è stimolato da eventi esterni come possono essere eventi di qualsiasi natura che vanno a impattare l'andamento globale dei mercati finanziari. Stiamo parlando sempre in una situazione di normalità. In linea di massima, le fasi di mercato possono essere quindi una fase direzionale e volatile, direzionale, e una fase non direzionale. Lo scegli tu dove vuoi lavorare. Vuoi scegliere di lavorare quando il mercato non è direzionale? Scelta tua. Sai perfettamente che il mercato non direzionale torni a ritroso, diventa, o meglio è, non direzionale per eccellenza, scusami la ripetizione, quando i partecipanti sono pochi o quando non ci sono situazioni specifiche che danno interesse da una parte o dall'altra, quindi sulla forza o sulla debolezza, è uno strumento finanziario. Questa è la non direzionalità. La direzionalità invece quando avviene? Avviene quando ci sono tanti partecipanti al mercato e una delle due parti, quindi i rialzisti e i ribassisti, è più forte dell'avversario, tra virgolette. Questo sì che cosa significa? Che è molto più facile in una fase direzionale vedere dei trend e dei movimenti stabiliti anche nell'intraday che vanno avanti magari per mezza giornata o una giornata intera, oppure settimane o mesi operativi, come abbiamo visto in questo 2021, che proseguono il loro andamento direzionale con massimi sempre crescenti e minimi sempre crescenti, controllato, con un movimento controllato esclusivamente ai compratori. Quale fase dovresti trattare? Beh, questo aspetta a te. L'ho detto anche prima, io personalmente non mi trovo bene nelle fasi di non direzionalità e ti suggerisco di prestare attenzione perché la fase di non direzionalità è vero che ti porta magari a realizzare due, tre, quattro, cinque operazioni molto vicine fra di loro con un target stretto e magari anche uno stop stretto, ma è altrettanto vero che è una fase molto pericolosa mentalmente perché ti stimola a lavorare con uno stop loss più ampio e un target più piccolino, sbilanciando quello che è il rapporto fra rischio e rendimento. Indipendentemente dal fatto che tu ci credo, no, che pensi sia utile o no, io ti dico, nella fase di non direzionalità il mercato tendenzialmente è pieno di rischio, c'è tanto più rischio rispetto a un mercato direzionale. Tutte e due le fasi poi hanno a che fare con il concetto di volatilità. La volatilità che cosa vuol dire, che cos'è, è un fenomeno che impatta il mercato e si verifica soprattutto nei momenti in cui il mercato viene controllato in maniera improvvisa da una componente, rialzisti o ribassisti, rispetto all'altra. Quindi quando c'è una componente operativa nel mercato che sovrasta la parte opposta in maniera netta. Quando è che vediamo queste situazioni? Le vediamo sulle rotture dei massi, sulle rotture dei minimi e su tutte le fasi che caratterizzano situazioni in cui i compratori e i venditori sono molto molto forti uno rispetto all'altro. La volatilità a sua volta può essere di due tipi. Lo dico, lo sostengo, questo argomento peraltro lo spiego bene nel corso di trading con i volumi dalla A alla Z e tutte queste informazioni non sono prese un tanto al metro ma sono studiate a singolo scambio di mercato. La volatilità può essere direzionale o non direzionale. La volatilità non direzionale è quella peraltro tipica delle notizie di mercato. Quando vediamo un mercato che sulla notizia spari in un senso poi spara nell'altro e dopo pochi istanti torna sostanzialmente al prezzo originario. Questa è la volatilità non direzionale. È quella più subdola, più fetente, scusami il termine in assoluto, quella dove magari, sembra semplice perché dici mi metto sui massimi e rotturo, sui minimi e rottura, il primo che prende mi porta a casa il profitto, ma nella realtà è subdola perché ti porta sempre a fare il meccanismo di lavoro nella non direzionalità, quindi nella fase in cui il mercato è sostanzialmente in lateralità. Io preferisco i movimenti direzionali e volatili e ti spiego il perché. La direzionalità e la volatilità sono due condizioni di mercato che ti permettono di operare con tranquillità. Che cosa significa questo? E attenzione, non significa che se il mercato è direzionale fa ogni tick crescente, ogni singolo istante crescente, ha le sue fasi di massi e minimi nell'intraday. Però una fase direzionale e volatile ti consente da un lato di discriminare il lato operativo o meglio quello su cui vuoi incidere con maggiore determinazione. Dall'altro ti permette nel caso di errore di recuperare perché hai un mercato che è comunque in movimento, un mercato che si sta muovendo, è frizzante, è un mercato che sta facendo dei numeri. Questo qui è totalmente in contrasto con il mercato non direzionale. Se sul mercato non direzionale sbagli una, due, tre operazioni, difficilmente hai la forza e l'energia, soprattutto mentale, per metterti lì e dire benissimo adesso mi metto lì, vado a recuperare un'operazione, magari lavorando in maniera un po' più ingegnosa, un po' più creativa con la position sizing, con il money management e con tutto quello che c'è dietro. Quando avvengono queste fasi? Queste fasi avvengono sostanzialmente in determinati orari della giornata che vanno dalle fasi di apertura dove la volatilità naturalmente aumenta, apertura intendo apertura della sessione americana, quindi le nostre 15.30 o 14.30 dipende dal periodo dell'anno, e chiusura del mercato americano, quindi l'orario che va a cavallo delle 22. Chiusura del cash, ricordati questo. Stessa cosa sugli strumenti europei, la mattina l'apertura per le azioni le 9, per il mercato dei future europeo tendenzialmente le 8 della mattina sono i momenti in cui c'è più volatilità. Ma quando è che la fase di volatilità si trasforma in direzionalità? Perché questa è una componente importante. In America hanno lavorato, sai, perfettamente sui concetti di opening range breakout e su tutto quello che ne viene dietro. Bene, non c'è un orario ben preciso. Non c'è un orario, ora, minuto, secondo, in cui il mercato ha fatto la sua candela di opening range e rottura dei massimi direzionali a rialzo, rottura dei minimi direzionali a ribasso. Non esiste questa cosa qui. Però ci sono degli strumenti che ci aiutano a discriminare questa fase di mercato. Tra questi troviamo il filtro sugli ordini. Questo è disponibile in Ticker Explorer proprio perché con Ticker Explorer riusciamo a identificare, a definire in maniera precisissima al milionesimo di secondo, o comunque dipende dai flussi che si vanno a utilizzare, riusciamo a definire in maniera precisa gli ordini. Questa informazione è vitale per comprendere se il mercato sta diventando direzionale o se il mercato continua a essere non direzionale. Fermo restando che il concetto di direzionale e il concetto di, chiamiamole così, mani forti che impattano il mercato vanno di pari passo è importante in un concetto di filtraggio del flusso degli ordini, dell'order flow, identificare quella che è la size e la dimensione corretta. Per esempio io sul mercato americano utilizzo un filtro che va dai 149 maggiori di 149, quindi dal centocinquantesimo contratto di S&P durante la fase, diciamo così, non regolare, quindi la fase europea, fino a superiori a 200 contratti o 250 durante la fase americana. Queste informazioni mi permettono di capire da un lato se ci sono le mani forti che lavorano sul mercato e due se stanno controllando il mercato, cioè stanno vendendo e stanno comprando. Questo è fondamentale in questa fase di mercato. Quando vedo che il mercato è uscito dalla sua fase di non direzionalità e vedo la presenza di compratori e venditori sul flusso degli ordini non filtrato di Ticker Explorer, a quel punto io comincio a depennare tutte le informazioni e dico bene, siamo in una fase di direzionalità, posso permettermi di cominciare a fare determinati tipi di operazioni. Ripeto, tutta questa logica di lavoro non è detto che incontri i gusti o lo stile operativo di tutti. C'è chi si trova più a suo agio a lavorare in 3D range, non direzionale, chi si trova più a suo agio a lavorare in controtendenze, insomma non è una critica, è semplicemente uno stimolo ad utilizzare questo tipo di informazioni per definire bene l'orario di lavoro. Io personalmente con Ticker Explorer utilizzo un applicativo che presto renderemo disponibile per tutti che mi permette di sezionare in maniera precisa sia l'orario che la fase del giorno divisa in quarti, quarti di ore durante la giornata a livello operativo, che è tutta una serie di informazioni che mi permette di identificare quali sono i momenti più profittevoli profittevoli o più, diciamo così, meno profittevoli, più profittevoli e meno profittevoli della giornata. Questo perché? Perché mi permette da un lato di dire bene ma se io nel momento che va dalle 4 e mezza alle 5 e mezza non sono profittevole, c'è un motivo per questo? È il mercato che cambia faccia, sono io che devo correggermi e proprio per questi motivi ti dico a livello oggettivo e ti spiego, ti vado a motivare le mie affermazioni. In ogni caso non dovresti avere timore o paura di lavorare quando il mercato è direzionale e volatile. Perché è lì che si fanno i soldi? È lì che si concentra l'operatività di chi vede il mercato? Secondo te, prova a ragionare, un investitore istituzionale di turno si metterebbe a lavorare in un trading range sull'S&P piuttosto che sul Nasdaq con lottaggi rilevanti? Certamente no, perché? Perché il rischio che il mercato prenda direzione da un momento all'altro è elevato. Mentre in una fase di mercato irrezionale chi è in grado di imprimere forze, direzioni, intensità al movimento gode, gode terribilmente perché è in una fase di mercato in cui il movimento è avviato e può in ogni masse o minimo ogni livello che desidera diciamo così trattare con più forza può imprimere ulteriore forza al mercato ed è proprio questa la situazione in cui bisogna sforzarsi di lavorare. I livelli nell'intraday o i livelli giornalieri riportati nell'intraday aiutano molto a definire queste fasi di mercato e tendenzialmente noterai usando Ticker Explorer che il mercato diventa direzionale proprio sul test dei livelli chiave che sono articolati in diverse tipologie e nascono da algoritmi applicati in maniera esclusiva con Ticker Explorer. Bene, a questo punto io ti ringrazio spero che questo tipo di ragionamento abbia stuzzicato il tuo interesse e soprattutto ti abbia messo nella situazione di poter capire come migliorare la tua operatività. Ti ringrazio per aver visto questo video se il video ti è piaciuto metti un mi piace commenta qui sotto quelle che sono le tue opinioni le tue esperienze e arrivederci al prossimo video a presto da Marcello.